Successo importantissimo della Dolomiti Energia che spugna il Palapentassuia 77 a 72, strappa la prima vittoria esterna in questo campionato e sale a 8 punti in classifica, seconda sconfitta consecutiva terza nelle ultime 4 partite per l'Epicasa che rimane da sola sull'ultimo gradino della graduatoria a quota 4, positivo l'avvio di Satton e gli ospiti si portano sul più 5, 20 a 25 al decimo, Trento viaggia con ottime percentuali dal campo, 13 su 20 da 2, 5 su 8 da 3 alla pausa e con Gomes, Silins e Schiltz allunga più 12, Lelin e Mesicek ci mettono una pezza, 41 a 49 all'intervallo, in apertura di ripresa il lungo di Haiti è l'artefice del meno 1 Stella del Sud, poi ci pensa Suggs ad operare il sorpasso, 13 a 2 in 5 minuti per i padroni di casa e più 3 nel computo generale, 61 a 60 al trentesimo, equilibrio nella quarta frazione, più 2 trento al trentaquattresimo, parità al trentasettesimo, si segna pochino nel finale Gutierrez e Gomes sono decisivi per l'assegnazione della posta in palio, 9 su 21 da 3 e meno 3 nel saldo recuperate perse per l'Aquila contro il 5 su 23 e meno 14 degli avversari che hanno ceduto 18 possessi, 16, 10 rimbalzi e 6 falli subiti per Satton, stesso score per Gomes, 14 per Gutierrez, dall'altro lato 23 con 9 su 12 da 2 per Lelin, 11 e 6 assist per Nick Moore